Noi siamo i Pulcini 2009 e siamo fortissimi e le vinciamo tutte. Siamo del calcio Padova e siamo molto forti. Anche se ci hanno annullato la partita più importante a Torino. Parla Gigi. Contro la Juventus. Eeeh è il tempo. Parla Gigi. Forza Padova. No no è premio. Vai vai da la morosa. Cosa dico? Dico che rompi tutto. Cosa? Rompi tutto. Sappiamo tutti che io sono il più forte. Io sono Riccardo e qualche volta mi prendo dei gol anche a papera però faccio lo stesso bene dai. Sono Gabriel. Cosa devi fare? Ha problemi di voce molto gravi, molto gravi. Noi abbiamo l'allarme pure che ogni due per tre parla e non si sa come parla ma è Gabriel Salviato. Parla vai, fai quel che c'è. I campioni dell'Italia siamo noi. Forza Padova. Parla 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 Padova.